Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nella 1 più 1 alle 5 Family! Oggi faremo un video di questo Gelli B insieme a una nuova invitata, Kao! Qui con noi la nostra amica Keiko, adesso si presenta! Ciao, io sono Keiko, ho 9 anni e vivo a Bois e sono venuta qua per fare un video con loro! Allora, Keiko viene spesso qui da noi, è un'amica di Anais, abbiamo fatto i compiti come spesso facciamo insieme, sono state bravissime e quindi adesso Keiko si sacrificherà per Youtube perché oggi faremo un video proprio strampalato! Faremo una challenge di caramelle! Voi vi direte, ma cosa c'è di strampalato in una challenge di caramelle? Voi non conoscete queste caramelle! Adesso vi spieghiamo un po' come funziona! C'è questa ruota, che poi Anais spiegherà anche a Keiko come si fa Ci sono delle caramelle di 6 colori, ma attenzione! Ogni colore corrisponde o a una caramella buona o a una caramella dal gusto disgustoso! Ti conoscivo per tanti! Adesso spiegate agli amici ogni colore a che cosa corrisponde! Corrisponde! Il giallo risponde a banana o squid! Banana o squid! Quindi banana o calamaro! Poi? Il bianco risponde a... Corrisponde! Corrisponde a sapone oppure gelato! Ok! Poi il kiwi o il buco di naso o il moccio di naso sono quelle verdi! Banana o... No, questa era già detta! Poi cola o snail! Snail che sono quelle marroni, quindi coca cola o lumaca! Io non lo ho! Le vedete tutte? Io me ne vado! Quella viola? No, no, c'è rosso! Ah, rosso cos'è? O sangue! O sangue! Fragola o sangue e poi... Poi c'è pesca oppure curry che è piccantissimo! Piccantissimo ragazzi! Allora, facciamo così la challenge! Allora, l'altra volta io pensavo che era un cibo per carne ma invece era un macchino! Era curry perché diciamo agli amici che... No, era quello... Quella di coca e lumaca! Pensavamo che era un'altra volta! Ok, perché diciamo agli amici che diranno ma come fanno a sapere già queste cose? Avevamo preso due scatole, una avete giocato in macchina perché eravamo in viaggio e l'altra abbiamo deciso di fare un video! Sì! Allora, io farei la challenge così! Ognuno ha tre giri di ruota e vediamo chi avrà più caramelle dal gusto pessimo sui tre giri! Io non volevo fare questo video perché... Ti abbiamo obbligata! E invece no! Infatti avete visto che abbiamo messo l'acqua e i tovagliolini perché non si sa mai... Dammi, ti apriamo! Io ho molta paura di fare questo video perché mi hanno costretta! Non è vero! Quindi è qui! Ci chiamano gli assistenti sociali! Allora, facciamo vedere agli amici la ruota! La ruota si schiaccia qui e come vedete si ferma! E qui ci sono le caramelline! Quindi adesso aprite le caramelline e le mettete lì! La ruota del terrore! Vedete ci sono le immagini con i colori delle caramelle! Appaurate un po' Vedete così sembrano golosissime caramelle! Non toccarle tutte che siete in tre! In realtà si nasconde qualcosa di pessimo! No raga no! Chi inizia? Io! Inizio io! Inizi tu? Dopo me! Andate in ordine Anais! Ok con Lorenzo! E' venuto strawberries o... Aspetta! Fai vedere bene agli amici che schiacci! No! Che cosa è venuto? No! Paprika! Peach or curry? Curry! Curry! E' pescao! E' pescao! E' buonissima! E' buonissima! Ora tocca a Keiko! Vai girare la ruota! Oh! Banana! Oh! Quella amaro! Gialla! Allora! Cerca di non farci indovinare su cosa sei capitata! Rimani seria! Secondo me è calamaro! Che schifo! No raga! Pessima? Calamaro! Beh un po' di pesce! Direi alla mamma! Mamma ho mangiato pesce da Anais! E quindi Keiko è già una pessima! Tocca a Lorenzino! Ma ho paura! Fate ooooooooh! Anche Lorenzo banana o calamaro! Vediamo se è più fortunato! Ho potuto sputare! Vediamo! No 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 hai preso quella mangi quella! Non vale a usare! E' banana! Ma dai! E' una banana calamarosa! Secondo tiro di Anais! Non ti può andare sempre bene eh! Poggia bene la ruota! Non ho visto questa! Non ho visto! Rifai! Non ho visto! Ecco che cos'è? Sì! Fragola o sangue? No cos'è? Fragola o sapore! Eh no è gelato o sapore! Ma lei mi piace il sapore! E' gelato! Ma va! Ma dai però l'ultima spiegata! Due su due! Ora è buonissimo! Tocca di nuovo a Keiko! Ho paura! E' buonissimo! Oh! Ok! Kiwi! E' kiwi oppure... O moccio! Non farci indovinare! Vediamo dalla reazione! Secondo me è kiwi! Anche secondo me è chi? No! Secondo me è caccola di naso! Due su due! E niente! Va così! Fare i video qui va così! E' proprio sfortunatissima! Oh! Tutte l'altro! Fa già qui? Fortunatissima! Vediamo! No rischiaccia! Non ho visto! Dovete far vedere bene quello schiacciato! Oh! E' rinchi! E invece sì! E' quello? Che cos'è? No! E' cocagola! Ah! E' cocagola! E' cocagola o l'umaca? Lumaca! E' marrone Lorenzo! Non è marrone! Dai prendi una marrone senza annusare! Questa! Vediamo! Che cos'è? E' la lumaca? Lorenzo ha mangiato le lumache! E pensa che a mamma piace la lumaca? Non voglio sapere di com'è la caramella! E' la caramella! E' la caramella! Persa da noi sveglia! Non puoi essere fortunata sempre! O sangue? No! Io raga! A lei mi piace pure il sangue! A me piace il sangue! Cioè raga io non so come fare! Anche se hai venuto fortunata! sta già mangiando fragola o sangue? è fragola dai è fragola giuro ora tocca a Keiko dai fortunata e no sempre la stessa no ritira dai perchè di nuovo uguale non va bene sempre la stessa sangue o fragola a me piace il sangue devo dire vediamo anche a me l'ho detto della vita reale quindi anche io l'ho detto della vita reale secondo me non puoi aver preso il sangue fragola però comunque per adesso è quella che ha avuto più sfortuna e io ero fragola tu 3 su 3 buone lei 2 su 3 cattive lui è 1 su 1 metti giù la ruota e fai vedere vai che cos'è anche tu fragola o sangue vediamo un po' rosa vediamo fragola e quindi la più coraggiosa e la più sfortunata è stata Keiko e io la più sfortunata adesso mi sacrifico e provo una io non vi faccio indovinare cosa è ah banana o calamaro sono queste giallo chiare sì no no dovreste vedere la macchina a faccia di mamma dovrete vedere la sua faccia che che sembrano buonissime ma sono continuiamo abbiamo finito la challenge avevamo fatto 3 su 3 adesso se volete potete continuare a giocare tra di voi no io voglio un'altra allora allora devo digerire il calamaro che mi è rimasto nella gola vedi speriamo che questa challenge vi sia piaciuta vediamo adesso interrogo Keiko vediamo cosa devono fare gli amici se gli è piaciuto questo video devono lasciare un bel like spolliciare iscriversi al canale attivare la campanellina e lasciare tantissime posizioni in su bravissima assunta ci vediamo al prossimo video ci facciamo venire un'altra idea di un altro video con la nostra invitata speciale ciao